Ma io penso che converrebbe utilizzare il buonsenso, che è una categoria pre-politica. Intanto vorrei... Lo vedo buongissimo in giro con Ferratio di buonsenso. Lo so, lo so, ma questo è il problema. Se il Presidente del Consiglio valorizzasse lui per primo il valore del primo maggio e chiedesse ai lavoratori una posizione ragionevole da un lato, il buonsenso è rispettosa dall'altro delle loro condizioni, diciamo anche di immagine e di riconoscimento, forse non ci sarebbe questa tensione. Poi se fossi un lavoratore della Scala mi intesterei lo spettacolo del primo maggio, cioè spiegherei a quelli che andranno alla Scala il primo maggio che lì i lavoratori per senso di responsabilità verso la città e verso gli ospiti hanno deciso di lavorare nonostante l'atteggiamento aggressivo e inaccettabile della Presidenza del Consiglio. Proverei a fare un'operazione di questa natura. Sarebbero capiti da tutti.